Il pubblico di Alba Adriatica, il pubblico dell'artimale del PIEG Serie A di 2017, il pubblico migliore della riviera. Luca Luca Ioni, 10-16. Luca Luca Ioni, 10-16. Luca Luca Ioni, 10-16. Luca Luca Ioni, 10-16. Luca Bucaglioni, 11-14 il tocco vellutato di Simone Parodi, 15-11 ancora Simone Parodi, 16-11 il tocco vellutato di Simone Parodi, 15-11 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 riesce a costruire l'azione, 20-12 attenzione Picciarena la palla che vale la torona si venga sul nastro, il semplice di Simone Parodi finisce qui, 21-12 seconda set, vincono Dore Bellalunga e Simone Parodi, Luca Bucaglioni e Mone Alletti arrivano adesso anche le canotte, arrivano le canotte sugli sporti il prossimo inizio di Simone Parodi, tra qualche istante la prevenzione rimanete con noi, Rion ed eccola la canotta da una parte e dall'altra arrivano anche qui da Luca Bucaglioni la sta per lanciare al pubblico allora davvero bellissimo l'applauso per i buon amici da Luca Bucaglioni